I lunghi vediamo quello che ne esce, comunque in un giro da 5 km riesco a cavare qualche ragno dal buco, fare 40 km su un giro da 5 km si riesce anche a fare, anzi è quasi comodo per i rifornimenti. È stato per me davvero un colpo al cuore vedere il mio grande amico varcare il cancello della mia porta il giorno prima del soft lockdown in Lombardia, so che non lo vedrò per un mese però ovviamente abbiamo già preparato ulteriori recensioni che saranno disponibili nei prossimi giorni qui sul canale. Nel momento in cui sappiamo che la stagione è compromessa ma restiamo ottimisti, secondo me ci sono fondamentalmente due possibilità da sfruttare in questo momento di soft lockdown. Qualunque sia la vostra opinione, secondo me l'importante è quello di restare davvero ottimisti e continuare a correre se possibile oppure in alternativa cercare di realizzare degli esercizi che vi possano permettere di migliorare la forza, la stabilità o al tempo stesso la flessibilità. Come sapete però io non parlo di allenamento ma invece di libri sicuramente sì e di conseguenza vi posso offrire tre consigli di lettura in questo periodo in cui purtroppo siamo costretti e confinati a restare, se siete nella zona rossa, nel vostro comune di residenza. Prima di farlo comunque vi suggerisco di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, di attivare la campanellina se potete perché nelle prossime settimane parleremo non soltanto di questi consigli ma anche e soprattutto di scarpe di recensioni che ci avete chiesto e sulle quali siamo sicuramente molto ferrati. Per tornare ai libri come primo punto suggerirei di valutare quali sono i vostri punti di debolezza e come ricordo sempre è appena uscito il libro di Daniele Lucchi Run nel quale in effetti si parla del modello di prestazione e il libro vi spiega al meglio come valutare le vostre debolezze. Il secondo punto che vi consiglio una volta stabiliti quali sono i punti di debolezza è scegliere quali allenamenti effettuare per migliorare la vostra forza, stabilità e velocità. In questo caso uno dei libri che suggerisco è quello di J.D. Sherry, si dice così in inglese, che è un esperto di fisiologia della corsa e di biomeccanica e nei libri sono indicati parecchi esercizi che vi spiegano come allenarvi durante questo periodo di lockdown. Il terzo punto che è probabilmente quello più importante è fate attenzione all'alimentazione se pensate di diminuire chilometri, ovviamente dovrete per forza farlo, il mio consiglio è stare attenti a cosa mangiare e in questo caso sappiate che per proprio qualche giorno fa è uscito il nuovo libro di Marco Perugini del progetto Invictus che si chiama Running Nutrition, all'interno del quale sono spiegati fondamentalmente tutti i principali consigli per migliorare il vostro rapporto con l'alimentazione, che siate dei podisti amatori o evoluti. Ve lo consiglio caldamente, sappiate che nei prossimi giorni i due libri in italiano saranno recensiti qui sul canale. Io per migliorare la forza, visto che sono chiuse le palestre, suggerisco di utilizzare anche Compex, nelle prossime settimane farò una recensione che vi spiegherà come farlo, visto che a marzo ho partecipato alla Compex Academy, mi sono comunque preso da Amazon un piccolo regalino per fare degli esercizi nella parte superiore del corpo che ovviamente durante il periodo di allenamenti intensi trascuro. Si chiama Cool Dot, sono cinque bande a resistenza variabile, vi metto qua sotto il link se siete interessati, devo capire un po' come funziona, ma al tempo stesso sono contento di poter sviluppare la forza anche nella parte superiore del corpo. Come dicevo all'inizio, ora lascio la parola ad Andrea che è venuto qui a casa mia, ci racconta come lui svolgerà il periodo di lockdown, e speriamo che si concluda abbastanza presto. È una bella bestia comunque. Ciao Massi, ciao a tutti. Ciao Andrea, sei pronto prima del lockdown? Guarda, ieri per colpa mia non ci siamo visti, oggi praticamente è The Last Day e non sono pronto, non so cosa mi aspetterebbe in questi mesi, in questo mese o in questi mesi, vediamo. Ti ho preso un piccolo regalo su Amazon, se lo vuoi aprire ti servirà secondo me per correre. Ah per me addirittura, vediamolo. Non lo serve per te, devo far più una buona. Ah ecco, allora sai qual è il problema? Che Bax pensavo che l'avesse già aperto lui, ho detto vabbè così mi toglie la sorpresa, però in effetti no, era... È da aprire. Al massimo me lo spedisci via poste. Oh raga, ricordatevi di offrirci il caffè. Vero Max? Assolutamente. Cos'è che è? È il tappetino per il... Il tappetino per fare yoga. Ah non è quello per il tapiro? Marca Eva, questo per un mese servirà sì ahimè. Ma Andrea come ti preparerai per in questo mese di lockdown? Cosa farai? Allora intanto, adesso le restrizioni sono che posso correre nel mio comune, quindi correrò nel mio comune, ho già visto il giro più largo che riesco a fare, sono circa 5 km senza sconfinare. Io comunque continuerò a preparare la maratona, continuerò a prepararmi come se dovessi fare una maratona, poi vediamo cosa sarà e cosa non sarà. Anche perché mi voglio far trovare pronto come avevo fatto già nel primo lockdown, alla fine finite le... come si dice finite le... il periodo di quarantena, poi bisogna già spingere perché le gare alla fine erano ripartite forse due o tre settimane dopo la fine del lockdown, quindi fortunatamente ero già abbastanza relativamente pronto e ci ho picchiato giù duro. Supponiamo, facciamo due ipotesi, supponiamo che il lockdown duri solamente un mese e che quindi a dicembre potenzialmente ci possano essere ipotesi ottimistica delle gare, cosa faresti in questo caso? Allora, contare comunque di gara in programma c'è solamente Reggio per ora, Pisa l'hanno già annullata mi sembra, quindi di maratona ce ne sono davvero poche, stavo guardando qualcosa all'estero se c'era la possibilità di muoversi, vediamo. Sicuramente io te l'ho detto, continuo ad allenarmi come se ci fosse la maratona a breve, quindi comunque farò delle ripetute lunghe, anche i 3.000, i 5.000 con recupero attivo forse farò qualche volta, anche perché non ho la pista a disposizione con recuperi passivi e ritmi davvero forti faccio fatica, e lunghi vediamo quello che ne esce, comunque in un giro da 5 km riesco a cavare qualche ragno dal buco, fare 40 km su un giro da 5 km si riesce anche a fare, anzi quasi comodo per i rifornimenti. Quindi credo che preparerò la maratona come ho sempre fatto, sicuramente toglierò le ripetute con recupero passivo, quindi come i 3.000, e i 5.000, io arrivavo a fare 3 volte i 5.000 con recupero passivo, li farò con recupero attivo un pochino più lenti su strada. A livello di sicurezza su strada che cosa suggerisci? Guarda io ho detto come battuta, ma rischio di non morire di Covid, ma di morire schiacciato dalle macchine, da me, perché comunque rispetto per i ciclisti e per i podisti è davvero poco, la gente in giro non sta attenta, e tipo lì sulla tangenzialina dove penso di correre io, non la chiamo la tangenzialina, passeranno poche macchine, però se non saranno attenti è un bel casino. Consiglio sempre di correre opposti al traffico, questa è la prima cosa che mi hanno detto quando ho iniziato a correre, è comunque vera, correte opposti al traffico, correte più luminosi possibile, poi davvero è comunque pericoloso, quindi state attenti, se potete correte in centro al paese, che magari ci sono più marciapiedi, ci sono più zone illuminate, ci sono delle zone dove si va più piano in macchina, e ripeto state attenti voi perché in macchina non stanno attenti, quindi giudizio. E se invece tra due settimane le curve del contagio continueranno a aumentare, probabilmente la maratona di dicembre sarà annullata, se questo è il caso, che cosa suggerisci? Guarda, io l'ho detto, l'avevo detto prima, continuerò ad allenarmi sul lungo, quindi ovviamente se mi danno la possibilità, perché ho visto già nell'altro lockdown che non riuscivo a fare più di 8-10 km nel mio giretto da 400-500 metri, quindi l'idea è sempre di preparare la maratona in febbraio-marzo, anche se credo che non la farò poi, perché di solito la maratona la faccio sempre nel periodo invernale, però io credo che comunque una preparazione aerobica sia comunque la preferire, primo perché abbiamo freddo e quindi non ci fermiamo mai, continuiamo a correre, secondo perché io ho problemi col vestire a lungo, a compressione, quindi preferisco correre un pochino più piano, ma più a lungo, e poi secondo perché comunque è più facile, cioè se dovessero riaprire le gare con le mezze maratone, faccio comunque prima a velocizzare quei ritmi che mi sono portato nell'inverno, invece che aumentare i volumi, che è un casino. Io dico sempre, se mi sono abituato nel periodo invernale a fare 15 km, 18 di lungo per una 10 km, e poi tirare fuori in due mesi i lunghi maratoni è un problema, se invece ho i lunghi maratona, per fare dopo una 10 km o una mezza maratona è molto più facile, perché devo comunque diminuire i chilometri e aumentare un attimo le velocità. E invece per chi non potesse allenarsi a livello di correre durante questo periodo, questo mese, cosa suggerisce? No, l'unica è dotatevi di una corda, fate salto con la corda, se potete fate i rulli con la bicicletta, fate cross training con sicuramente potenziamento, lavorate sullo stretching, se l'avevo già letto nel periodo del lockdown, lavorate su dove siete deboli, ma cercate di non perdere l'aerobia che vi siete guadagnati in questo periodo. Quindi sicuramente corda, se non avete la corda, anche se la riuscite a ritrovare tranquillamente, fate lavori tipo i burpees, jump squat, skip, calciate, tutte quelle cose che vi tengono il cuore a lavorare abbastanza in alto. E come faremo a vederci da qui al 4 dicembre? Guarda, se non ci vediamo da qui al 4 dicembre, credo che sia uno dei pochi, cioè un problema minimo, perché alla fine di video ne abbiamo fatti apposta, e se non ci vediamo faremo che io mi metto nel mio giardinetto con sul piumino, però questa volta e farò i video da casa e te li manderai, te li monterai. Devi comprare una telecamera seria, un po' costosa. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, nei prossimi giorni continueremo le recensioni che avevamo descritto nei video precedenti, e oggi inizierò a fare il primo allenamento sul tapirulano, utilizzerò le nuove ASICS GT2000 versione 9. Sapendo che questo periodo continuerà per un certo tempo, vi suggerisco se avete la possibilità di comprarne uno, sappiate che il mio pensiero va a tutti quelli che sono in questo periodo toccati dal virus, dal punto di vista economico o dal punto di vista sanitario, Stay Strong, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.